Dire di essere felice, qua c'era le vede di Calatrano. Sono felice perché con l'espansione di memoria non ho più quel tic-tic-toc, scusa, devo cancellare, mi si interrompe il video, no? Me lo segnalava giustamente l'amico e collega Luca Muzzioli, Super Volley, Tutto Sport, grande free dance, il simbolo del volley in Italia. E mi diceva, aveva ovviamente da ridire sul discorso dell'approccio, sulla qualità delle domande e anche sui video che si interrompono. Non è segno di professionalità, ha assolutamente ragione Luca, infatti ci abbiamo lavorato. E adesso possiamo sbizzarrirci, il problema sono i caricamenti bloccati. Quando faccio una raffica di caricamenti 15, tutti insieme, purtroppo è così. Ciao Natan Vignola, Radio Rai.